Parliamo di guerra in Ucraina e dei principali fatti di attualità con Roberto Quaglia, scrittore e ricercatore. Bentrovato. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Parliamo innanzitutto delle dichiarazioni del presidente statunitense Joe Biden, che ha parlato di unità della Nato, l'ha definita una formazione compatta e anche sostenuto che manterrà il pugno duro, possiamo dire, su Putin attraverso sanzioni storiche, tasse e il continuo rifornimento di armi e attrezzature all'Ucraina. Insomma, non cambia la sua linea. Che cosa ne pensa? Cavallo perdente non si tocca. Le cose che hanno fatto sinora e che non sono servite vengono aumentate di intensità pensando che questo possa servire. In realtà unità della Nato sembra quasi una presa in giro, visto che sappiamo che la Nato in realtà è comandata, cioè sono gli Stati Uniti con i suoi paesi vassalli, quindi in realtà non è un'alleanza, ma più una forza di occupazione, tecnicamente parlando è quella. Quindi hanno menzionato anche assistenza umanitaria degli ucraini, non si capisce cosa si intende, forse si riferiscono all'uranio impoverito con cui vogliono rifornire l'esercito ucraino, che poi disperderà appunto polvere letale che colperà tutte le popolazioni civili per decenni a venire. Quindi la situazione si mette male da un punto di vista militare per l'Ucraina, quindi per la Nato, perché ormai sappiamo che è una guerra per procura e anziché siedersi a un tavolo delle trattative, come peraltro appena suggerito anche dalla Cina, cioè niente di meno che dalla Cina, si intende proseguire con l'escalation, quindi niente di nuovo sul fronte occidentale è il caso di dire. Ecco, invece qualcosa di nuovo c'è, notizia di qualche ora fa, che sia stata firmata una lettera di intenti da parte dei vari paesi del nord, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. Si tratta di una lettera in cui si parla di una difesa aerea nordica unificata a contrasto della crescente minaccia russa. Cosa ne pensa? Beh, qui di nuovo continuiamo a inseguire nuovi orizzonti di orwellianismo, ecco, perché la minaccia russa notoriamente non è certo diretta verso il nord appunto dell'Europa, non si capisce che cosa andrebbe a cercare la Russia nei paesi scandinavi, quindi in realtà non è un'alleanza difensiva quella appunto dei paesi scandinavi adesso, ma è offensiva. Chiaramente non è nel loro interesse operare così, operano in questo modo perché anch'essi manovrate a distanza dal burattinaio d'oltreoceano e anziché vivere appunto in questa bella parte d'Europa pacifica e Florida, vanno a ficcarsi in una potenziale guerra contro un paese che non ha assolutamente nessuna intenzione di attaccarli, ecco, quindi non mi sembra veramente una mossa saggia, anzi, è a livello di nazioni intera il candidarsi per il Darwin Award, ecco, il Darwin Award per intere popolazioni. Voltiamo pagina e parliamo di un argomento che è tornato in voga negli ultimi due mesi, in realtà forse con il periodo del Covid era stato molto accantonato, perché sono sempre di più i migranti che vengono accolti e salvati nelle acque nazionali e internazionali. Il team di medici senza frontiere a bordo della Geo Barenz ha salvato ieri notte 190 persone, tra cui anche i minori non accompagnati e li ha scortati a Bari, mentre nelle prime ore di questa mattina la Life Support di Emergency ha tratto in salvo 78 persone in acque internazionali nelle zone SAR del Maltese che navigavano su un gommone di circa 12 metri. È un argomento che è tornato però in voga, come dicevo, negli ultimi mesi, no? Sì, è difficile parlarne molto seriamente, viene da ricordarsi il tweet di Giorgia Melloni, diceva la pacchia è finita, adesso abbiamo visto come è finita, oppure i giornali mainstream che hanno avuto la cura di informarci nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, che il traffico di emigrati, scusate se mi metto a ridere, sarebbe organizzato niente di meno da quei cattivoni della Wagner, l'esercito mercenario privato della Russia. Adesso, se queste sono appunto le notizie di contorno, diventa sempre più difficile parlare seriamente di un problema serio, grave, che viene sempre affrontato nel modo sbagliato ormai da anni, quindi anche qui niente di buono all'orizzonte purtroppo. Grazie Roberto Quaglia per essere stato con noi. Un grazie a voi e alla prossima volta.